ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi in questo video semplice ma spero che sia utile parleremo di come poter testare la nostra connettività di solito noi ci basiamo per effettuare dei test sulla nostra linea internet con i classici software online da browser ovvero quello più famoso potete vedere qui a monitor è il classico speed test della ocla queste tipologie di test servono praticamente a effettuare un test istantaneo in quel determinato momento della nostra rete quindi farà un test che comunque è da prendere sempre con le pinze perché un test in quel determinato momento ci sarà capitato spesso magari di rilevare dei problemi sulla nostra linea internet magari abbiamo un determinato contratto e vorremmo comunque controllare se effettivamente è garantita la banda minima o comunque se i parametri rientrano in quelli contrattuali però per poter fare questo non possiamo basarci su dei semplici test effettuati istantaneamente ma si ha la necessità di fare un monitoraggio molto più accurato oggi infatti vi parlerò di un servizio che è fornito da comunque un servizio ufficiale ed è fornito dalla agcom ovvero l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni quindi di quello quello che vi dirò è un test ufficiale praticamente questo il questa pagina qui la trovate su www.agcom per l'italia digitale punto it cliccando sul browser questo indirizzo vi troverete in questa in questo sito qua in cui potete trovare molte informazioni ovviamente rimando a voi per approfondire l'argomento ma quello che di cui vorrei parlarvi oggi è un servizio praticamente chiamato misura internet ovvero ci permette di verificare la velocità della nostra connessione dsl fibra e quindi valutare anche un servizio mobile quindi è possibile effettuare un test della nostra connessione internet da postazione fissa e ovvero anche un test della connessione mobile di cosa si tratta per accedere a questa sezione possiamo ovviamente cliccare qui dall home page nella sezione scopi di più di misura internet oppure andare in servizi online e misura internet come potete vedere qui ci sono molte informazioni per quanto riguarda altre altre situazioni vi invito comunque a spulciare un pochino il sito e trovare tante altre informazioni quello che a noi interessa quindi nella sezione misura internet vediamo di cosa si tratta praticamente questo è un test ufficiale che ci permette di effettuare dei test sia per una postazione fissa e sia per una postazione mobile quello di cui parleremo oggi un pochino più nel dettaglio e la postazione fissa allora di cosa si tratta velocemente questo sito è stato realizzato dalla ag com in collaborazione con la fondazione con bordoni e via dicendo il progetto consente agli utenti di valutare autonomamente attraverso un software gratuito la reale qualità dell'accesso ad internet in banda larga la postazione fissa quindi potete ben capire che non si va a effettuare il classico test online tramite browser anche se adesso vedremo che è possibile anche farlo da questo sito qua ma bensì si riuscirà ad effettuare un test molto più accurato con un determinato software da scaricare ovviamente ora vi farò vedere come poterlo fare di cosa si tratta la misurazione della qualità certificata avviene tramite come abbiamo detto poco fa un software denominato nemesis se l'esito della misura effettuato nel corso della giornata quindi non è un test istantaneo ma bensì per ben 24 ore minimo il software va a testare la nostra connessione quindi acquisisce dati per 24 ore per un massimo di tre giorni poi vedremo quindi se la nostra dopo il test effettuato nell'intera giornata quindi non rispetto il valore della banda minima contrattuale dal sito puoi direttamente effettuare un reclamo al tuo gestore quindi ci permette questo software dopo un accurato monitoraggio del nostro diciamo del nostro accesso ad internet ci permette di eventualmente di testare la rete quindi effettuare eventualmente un reclamo è disponibile anche lo speed test ufficiale gcom utilizzabile via browser che adesso vedremo per una misura istantanea della qualità della connessione ad internet da terminale fisso i risultati però dello speed test non sono utilizzabili per proporre un reclamo all'operatore lo speed test è gratuito funziona su tutti i maggiori browser ed è disponibile direttamente sul sito del progetto misura internet allora questo sito qua ovviamente permette di fare una normale un normale test istantaneo via browser che adesso vedremo che può essere diciamo utilizzato in alternativa al classico test della ocla quindi magari si potrebbero effettuare due test istantanei nello stesso momento orientativamente prima si fa uno poi l'altro confrontare ovviamente magari valutare i parametri che escono proprio quindi questo qui è un diciamo un test molto più accurato secondo me vediamo subito prima di entrare nei dettagli di nemesis vediamo il test quello alternativa d'ocla andiamo qui vai sul sito ci aprirà una nuova pagina in cui ci fa vedere lo speed test online ovvero qualche cosa ci dice bastano pochi secondi per misurare la velocità della tua connessione adsl o fibra si può cliccare sul lancia oppure andare qui in basso e lanciare il test come vedete l'interfaccia è molto molto simile a quello della ocla comunque dei vari speed test che si trovano online va a testare per un determinato periodo di tempo che possono essere 10 15 secondi va a testare istantaneamente la nostra rete e ci dà i classici valori ovvero il valore riscontrato del ping la banda in download la banda in upload e il jitter come vedete il test dura all'incirca quei 15 10 15 secondi qualcosina in più e ci fa vedere un report ovvero tutto quello che è stato rilevato si può salvare l'immagine come vedete non è nulla di particolare rispetto agli altri classici test che vediamo su internet quindi vi stavo dicendo che questa è un'eventuale alternativa ma per effettuare un reclamo questo test non va bene cosa bisogna fare bisogna utilizzare il software nemesis entriamo un attimino nei dettagli vediamo di cosa si tratta cliccando qui sul link a disposizione entriamo nella pagina dedicata della sezione di nemesis allora il software nemesis è il programma ufficiale del progetto misura internet dell'autorità per le garanzie telecomunicazioni agcom per la misura certificata della qualità dell'accesso ad internet da postazione fissa ovvero nemesis è l'unico software che consente di ottenere un certificato quindi vi da una certificazione reale e spendibile anche per effettuare un eventuale reclamo attestante la qualità della connessione ma vediamo brevemente come funziona quindi prima cosa le caratteristiche nemesis è gratuito è disponibile per i maggiori sistemi operativi è ovviamente open source quindi il codice sorgente disponibile a tutte in chiaro quindi si può tranquillamente vedere come opera questo software è scaricabile direttamente dal sito dal progetto misura internet qua vedremo che un pochino non macchinoso ma prima di arrivare ad ottenere il software bisogna fare una procedura che vedremo se riuscirò a farvi vedere più avanti vediamo come funziona le misure con nemesis possono essere eseguite autonomamente dall'utente registratosi sul sito e scaricando e ovviamente installando il software quindi ovviamente come avete ben capito bisogna loggarsi quindi fare un account ogni sessione di misura dura un massimo di tre giorni come vi dicevo poco fa può durare da uno a tre giorni durante le quali si dovrà mantenere il pc su cui è stato installato il software di misura sempre acceso quindi bisogna prima di tutto dedicare una postazione fissa per la durata del tempo sempre accesa quindi limitare l'uso di ogni genere di applicativo e tenere collegato il pc al modem tramite un cavo ethernet ovvero anche tenere spento il collegamento wifi tra pc e modem e tenere spenti altri pc non che i ptv e voip ovviamente questo testo un pochino come dire invasivo perché comunque ci va a bloccare per un giorno la connettività di internet perché dobbiamo prima di tutto dedicare il computer mantenerlo sempre acceso per 24 ore spegnere il wifi quindi tra computer e modem collegarlo direttamente alla rete ethernet quindi la postazione fissa deve essere collegata non wifi ma via cavo ethernet bisogna evitare di effettuare tutte le connessioni quindi eventualmente bisogna evitare di connettersi alla rete per avere un test affidabile quindi eventualmente smartphone il ptv o qualsiasi dispositivo che abbiamo nella nostra casa per quel determinato tempo dobbiamo ovviamente evitare di connetterci quindi per un giorno comunque per il tempo dedicato al test dobbiamo lasciare il software lavorare tranquillamente ovviamente questo lo si va a fare se si riscontrano problemi sempre sulla rete quindi voglio attestare che la mia rete internet non funziona e quindi effettuare un reclamo ma per ad esempio se ogni tanto riscontro qualche problema fare un test del genere diventa un pochino invasivo io consiglio questo test molto più accurato nel momento in cui si percuota nel tempo questa problematica ovvero avere una banda molto più piccola rispetto a quello che noi ci aspettiamo perché ovviamente come avete ben capito il test è un po invasivo devo dedicare un giorno intero lasciare lavorare il software un computer acceso per l'intera giornata o comunque più più tempo può anche metterci anche tre giorni perché durante il test potrebbe fermarsi e lui ricomincia da capo però per un diciamo un lasso di tempo massimo di tre giorni a questo punto se noi decidiamo di fare il test cosa succede ciò ci rende possibile misurare le prestazioni della sola tratta di responsabilità dell'operatore e la locazione fisica dei server di misura utilizzati dal progetto i server del progetto eccom infatti sono posizionati nei neutral access point ovvero nei punti fisici di interscambio tra le reti dei vari operatori come potete ben capire andrà a fare un test davvero accurato della tratta della nostra connessione internet la misura si basa su uno scambio di pacchetti tra client e server posizionato nel ma comunque andiamo avanti queste cose magari le rimando a voi la cosa che più ci interessa che più vi ho voluto segnalare questo sito comunque questa possibilità di effettuare questo test è che la misura effettuata con nemesis ha un valore probatorio che significa che in quanto il software non misura le generiche prestazioni di internet ma bensì effettuano misura relativa solamente al tratto di rete di responsabilità dell'operatore dell'utente quindi se durante se alla fine del test dopo la misura si elevano valori peggiori rispetto a quanto garantito dall'operatore quindi qua ad esempio se noi clicchiamo diamo diciamo andiamo a cliccare qui sono presenti tutti gli operatori quindi con tutte le loro offerte e le bande minime garantite comunque lascio a voi l'approfondimento ritorniamo indietro quindi se ad esempio riscontriamo un test che non garantisce quella banda minima il risultato costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato per proporre un primo reclamo per chiedere eventualmente ripristino degli standard minimi garantiti a questo punto se non vengono rispettati comunque ripristinati i valori minimi quindi cosa succede ovvero non vengono ristabiliti i livelli di qualità contrattuali passati 45 giorni dal primo certificato che ci viene rilasciato dal software una seconda misura effettuata sempre nello stesso modo nella stessa modalità effettuato con il software nemesis e che conferme ancora che i valori sono peggiorati rispetto a quanto garantito dall'operatore comunque sono rimasti nella sono diciamo più bassi di quelli prestabiliti il secondo certificato che ci verrà rilasciato può essere utilizzato in questo caso come strumento di recesso senza penali quindi non possiamo richiedere il recesso senza avere delle penali questa è una cosa molto importante perché molte volte noi vogliamo magari effettuare un recesso ma siamo magari tentato a non farlo perché dobbiamo pagare delle penali con questo certificato possiamo tranquillamente richiedere il recesso e sono obbligati a farlo come potete ben capire per chi ha un problema del genere questo software che è certificato dalla gcom è davvero molto interessante ma detto questo adesso vediamo come ottenere il software quindi passiamo al download o comunque la procedura per ottenere il software per ottenere il software bisogna loggarsi ovvero bisogna accedere cliccando in altra destra dal sito misura internet punto it clicchiamo su accedi a questo punto come vedete bisogna loggarsi ma bisogna loggarsi con lo speed se non ce l'avete dovete provvedere un attimino a farlo io vi consiglio di utilizzare lo speed dell'intestatario della fattura comunque del contratto del vostro operatore ad esempio se il contratto è a nome vostro comunque a nome di vostro padre lo speed da utilizzare quello lì perché dobbiamo inserire poi successivamente dei dati e devono combaggiare ovviamente con quelli di fatturazione nel caso in cui non avete uno speed purtroppo non potete andare avanti dovete comunque provvedere a fare lo speed io in questo caso utilizzo lo speed di poste e adesso vi farò vedere un attimino la procedura da fare velocemente per poter accedere al download del software nemesis quindi mi loggo e vi faccio vedere come fare ecco qui mi ha fatto entrare a questo punto dobbiamo cliccare su a consento altrimenti non riusciremo ad andare avanti clicco su a consento qui appariranno i nostri dati qui ovviamente apparirà il nome il cognome e l'email cosa dobbiamo fare come vedete qui dice non hai ancora nessuna utenza telefonica registrata per eseguire le misure di qualità di accesso ad internet e associarle al tuo contratto devi creare una nuova utenza quindi dobbiamo inserire i dati relativa alla nostra fattura comunque la nostra offerta ovvero cliccando sul crea nuova utenza riusciamo ad entrare ad andare al passo successivo qui dovete inserire ovviamente l'indirizzo vi consiglio di mettere in questi dati qua praticamente l'indirizzo relativo alla fattura quello che vi esce sulla fattura voi lo mettete quindi qua inserite l'indirizzo ovviamente l'indirizzo che bisogna certificare il cap la provincia vabbè la partita iva no e poi cliccare su successivo io metto i dati e passiamo ovviamente alla fase successiva dopo aver inserito i primi dati ovvero l'indirizzo il cap è quello che vi chiede cliccando su successivo vi ritroverete in questa seconda sezione qui bisogna inserire il numero da certificare quindi il nostro numero di telefono andiamo lo inseriamo e confermiamo nuovamente il numero qua clicchiamo su successivo io lo inserisco e andiamo avanti allora in questa sezione qua dobbiamo inserire l'operatore quindi andando sul menu a tendina possiamo tranquillamente iscrivere il nostro operatore qui sono presenti tutti gli operatori quindi sicuramente troverete il vostro io sono con team quindi scrivo team e lo seleziono tipologia di cliente io sono consumer non sono un'azienda quindi consumer tecnologia qui dovete sapere ovviamente se siete in ftth una dsl normale oppure una vdsl nel mio caso io sono una ft tc quindi vdsl ma se voi comunque non sapete su quale tecnologia sete teoricamente sul contratto comunque sulla fattura dovreste trovare questo dato io scrivo perché dovete mettere questo perché in funzione della tecnologia vi usciranno le offerte scrivo vdsl qui dobbiamo trovare la nostra offerta perché lui farà il test in funzione e quindi dovrà comparare l'offerta che noi abbiamo stipulato cliccando su scegli la mia dovrebbe essere premium mega allora eccola qui premio team premium mega tecnologia ft tc fino a 120 mega questa è la mia offerta a questo punto dopo aver trovato la vostra offerta cliccate su successivo a questo punto io qui ovviamente vi ho scurato un po' tutto c'è un riepilogo nome cognome l'email che avete scelto l'indirizzo il cap la provincia la città il numero vi escono comunque tutti i dati riprogativi a questo punto cosa dovete fare dovete ovviamente sottoscrivere la veredicità quindi la dichiarazione spuntare tutte le caselline altrimenti non vi fa andare avanti allora dopo aver spuntato tutte le caselline cliccate su salva allora qui ovviamente io devo oscurare il tutto ma viene effettuato un riepilogo dei dati che abbiamo inserito prima quindi telefono nome cognome indirizzo e via dicendo e vi da anche il codice importante di nemesis quindi sarà un test ovviamente certificato con un determinato codice per scaricare il software andiamo in basso e clicchiamo qui sull'area scarica nemesis clicchiamo su leggi di più si aprirà la pagina di download di nemesis scendendo in basso vedremo qui un riepilogo dei requisiti di quello che andrà a fare il software scegliete il vostro sistema operativo io nel mio caso magari se lo installo qui è windows 10 quindi faccio il download del nemesis versione 64 bit windows 10 oppure siccome ho un altro computer con 8.1 mi scarico anche il nemesis quindi il download dell'8.1 voi come vedete installabile su ubuntu installabile su mac e dei vari sistemi operativi windows dopo aver effettuato il download dovreste trovarvi il setup nella cartella del vostro download e dovreste trovare un singolo file da poter lanciare ed installare a questo punto possiamo anche chiudere questa sezione possiamo vedere qualcos'altro ma qui possiamo vedere fatte con nemesis scarichi qua possiamo eventualmente poi scaricare il certificato e via dicendo vediamo il software un attimino nel momento in cui andate a scaricare il setup vi ritroverete un'icona del genere io ovviamente ho scaricato le due versioni quella per windows 10 e windows 8.1 questo che sto utilizzando adesso windows 10 proviamo a lanciare l'installazione ci clicchiamo due volte e attendiamo un attimino dopo aver lanciato e cliccato due volte sul setup clicchiamo su eccetto termini del contratto di licenza andiamo avanti avanti lasciamo tutto quello che ci chiede il programma il percorso mi va bene è una classica normale installazione lasciamo nemesis non creare una cartella del menu avvio start va bene avanti clicchiamo su install come vedete è molto semplice e intuitivo è una normale installazione qualche secondo e il software ha finito qui dobbiamo ovviamente inserire l'email e la password il codice nemesis questo qui è quel codice che abbiamo visto prima nel repilo che io comunque ho dovuto oscurare ma qui dovete inserire il codice fiscale oppure un'email e ovviamente la password che ci ha rilasciato nel momento in cui abbiamo completato la procedura allora dopo aver attivato il software lanciando il praticamente il nemesis gui cliccando da volte sull'icona si aprirà la pagina ovviamente dovete essere logati in cui vi farà vedere eventualmente tutte le fasi del test io ovviamente ancora non l'ho lanciato quindi non risulta nessun test quindi questo è quello che vi troverete in questo momento come vedete qui ci fa una panoramica dei dispositivi connessi io per effettuare il test dovrei comunque disconnettere tutto e fare la procedura che vi ho illustrato praticamente prima ovvero lasciare la postazione fissa e diciamo disconnettere tutto quello che è attualmente connesso io ovviamente adesso non lo faccio io non lancio la procedura comunque non vi faccio vedere come si fa ma se volete effettuare comunque questa prova vi invito ad approfondire sul sito io comunque l'obiettivo del video era segnalarvi questa opportunità di poter comunque effettuare un test molto più approfondito della rete spero che vi sia stato utile spero che sia stata un'informazione utile a qualcuno se il video vi è piaciuto mettete un like se vi va di tenervi aggiornati su quello che faccio iscrivetevi al canale alla prossima grazie ciao 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 ciao